Bene, oggi è una grande giornata perché inizia la campagna della Lipu contro il bracconaggio. Si pone un altro tassello importante in questa lotta impari perché i brancoglieri purtroppo in Italia sono ancora tanti e nonostante siano tantissimi volontari che cercano di combattere questo fenomeno non si fa mai abbastanza. Quindi vi invito a entrare nel sito della Lipu e a sottoscrivere questa iniziativa perché è veramente un'iniziativa che vale la pena sposare. Io lo sto facendo in questo momento, firmo l'appello e inoltre continuerò a impegnarmi direttamente in campo per cercare di documentare il proprio possibile, sensibilizzare e sconfiggere assieme alla Lipu e a tutti i volontari il bracconaggio. Queste battaglie spesso sono anche purtroppo fonte di problemi, sono campagne pericolose perché ci troviamo di fronte a persone assolutamente senza scrupoli però l'importante è che tutti noi teniamo duro, continuiamo ad occuparcene, sottoscriviamo una campagna come questa che è veramente importante e i risultati arriveranno. Grazie mille, grazie per il vostro sonsegno e a presto. Ciao Edoardo